vi siete portati un po' di ciottoli dobbiamo trovare un blaze assolutamente si shulker allora andiamo giù di qua raga non d'oro lasci andiamo a f*** il don d'oro lasci io mi chiamano il ciottoli mo cacchi deve mocare un dinosauro allora e aspetta no secondo me si riesce a scendere da qua pure da qua marchese ci caliamo giù dalla lava dai qua c'è una cosa per scendere se volete che madre l'ho trovato oh hai trovato questo è buono giuseppe oh ma va là ma va là grande e non lo so se te lo da col ferro eh mi sa che te lo da solo col diamante questo qua no non credo eh per me si invece io non lo sprecarei a sto punto lasciamo stare ah guarda abbiamo piccati di gamba prendiamo tanto è indistruttibile questo qua anche se gli spara pensa a te grande peppy eh raga e che fa sta cosa? è il nederite è il frammenti di nederite ah si questo è quello che fa l'armatura ma la marona è rarissima è abbastanza raro è anche raro trovarlo quassù marco è perchè dove si trova di solito? ah si trova in profondità no siamo scesi ah è don durashii è don durashii figo abbiamo già trattato nederite è bello ho trovato adesso sarà mia la portaria minchia quanta cazzo di lava marco io la voglio cesta perchè mi confondono si raccogliele però non le non le far scomparire vuole andare a prendere con l'altro eh però però adesso non sappiamo da dove siamo scesi eh ragazzi sono un pochino incazzati eh ma giusto un po' minchia è gigante venite a vedere qua dietro mh ci sono pochini pigli e mi arrabbiati vai a vedere? vai a vedere la dietro madonna chi è bravo io estrarerei a livelli archi ma io invece non mi sarei distratto eccessivamente avrei voluto comunque cercare la fortezza io appunto altri blocchi d'oro lo piglio fulcina 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 mamma mia che paura allora qua c'è della sabbia mobile che è da raccogliere aiut io mi girai non mi girai fossi voi eh un po' a chi che mi fulcina oh cazzo ahahah e me lo mani sono ahahahah ahahahah allora no più che altro dobbiamo ritrovarci un attimo ragazzi perchè noi adesso non sappiamo più da dove siamo scesi i quali in attività l'altro blocco d'oro e che fanno lo prendi o sabbia mobile mia 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 ecco infatti vieni qua marchi sì sì ma c'è un'altra entrata qua ma che voleva colpirmi col fuori schifo io comunque sto qua ma gli foto proprio la roba libro incantato velocità dell'anima 2 ottimo da qua aspetta però voglio tenere un po' di roba minchia marco quante frecce ehm dalle un po' pure a noi eh dalle un po' pure a noi sono tutti prendo io prendo io prendo io e distribuisco io c'è un po' di roba marchi e la lascio qua dentro tu ne hai no 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 cioè non ha senso andiamo ad appoggiare e qua sono qua le frecce no lascia troppa spazzatura no niente spazzatura in minecraft tu sei spazzatura tu sei spazzatura ma tu guarda che fili bustieri sto ritornando poi ci sono i viclin un po' poi forse dire un po' i nervositi ma già passava fortezza va a voi ah ma questo proprio io voglio 2 euro oh maroschi abbiamo 5 lacrime di ghast ottimo ne abbiamo ancora di più il mio problema non è arrivati il mio problema è i piglin mamma mia mamma mamma mia fuggi e naro vabbè per conoscere la roba d'orso non è uno chi è che sta sparando e pasquale fai la guardia fai la guardia pasquale la raccolvi la roba di giuseppe ok come vuole facciamo primo la guardami le spalle oppure sguardami le palle come preferisci si comunque tutti i fullati d'oro non conviene essere ragazzi è conviene giusto basta un pezzo per non farsi inimicare i i piglin eh raga c'è un problema c'è uno schedo qua e non posso correre vado a paragli in culo Marco va bene va bene allora schi la mano mi serve il cibo ehi ti sto recuperando tutto giuseppe penso non ho più cibo porca la muori così tiè mangia dei patani eh mangia dei patani buona 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 eh mamma che spazzine mamma buona patana se tu mi l'haivi permesso è vicino a casa è vicino a casa è vicino a casa essere vicino a casa sì ci danni i permessi Marco e gli inizi a scappare no no te te non giochi te non giochi pulito e quindi neanche io gioco pulito con te non è giusto allora visto che non è giusto ripensa a quello che fai tu di giusto poi ne riparliamo cosa ho fatto di male te ne fotti degli altri quello fai di male ok sono abbastanza egoista tu te ne fotti degli altri allora devi imparare come funziona il mondo si ma cazzo come faccio eh esce lo scoperto dai chi cazzo che esca la square esce lo scoperto dai no non ci vuoi per correre se non uscivo esce lo scoperto non ci vuoi per correre se non uscivo che cazzo è guarda che cazzo mi cercano guardali come faccia la casa allora se io fossi un peppino guarda sai cosa possiamo fare possiamo liberare possiamo liberare johnny mannaggia la puttana johnny dove è johnny johnny che cazzo è una è un cane liberare johnny liberiamo johnny dai giuseppe d dc dove sei è così finisce il gioco e non c'è cibo per scappare dc dove sei no dove sei dai non c'è cibo per scappare come faccio a scappare dacci almeno qualche indizio eh se vi do l'indizio sono morto almeno è un indizio un po' difficile dai mi droppi cibo però ma di qui se fai un passo no 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 adesso è non morto ti allontanate così non ti permessi non ti muovi allora mi devi dare mi devi dare il tempo però pepi eh lo so però ma si deve allontanare se no mi dai il tempo ci avrò mezzo cuore allora io non ti tocco però non ti vede da proprio il pesce Pasqua poi prendi un po' di carne e droppi no 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 eh no no come cazzo mangio no 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 dai entra entra Pasqua si deve allontanare e voglio un pochino di carne allora aspetta no 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 tutti e due entra entra allora dai Pasquale allontanati allontanati dai no no tu vicino a quella cosa rossa allontanati eh voglio un pochino di carne Pasqua voglio il pesce tu a terra no te lo do dopo io baratti io entro e tu mi dai un po' di carne no tu entri e io ti do i permessi dopo ti do la carne non ti tocchiamo ci lontani eh cazzo siamo già lontani dai no 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 passano scatto e mi uscite vicino all'albero più indietro dai entro entra dai non ti facciamo niente te lo dovrò portare guarda mi metto la la patata la patata arrustuta iecca 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 tra la patata arrustuta iecca io metto il mio pesce si ma troppi si no tu entri tu entri e dopo te la porti io te la voglio portare davanti non ti muove ma ah oh il primo è che fa un passo fič chiudo l'xbox eh il primo che fa un passo eh la- la.... la vuoi la patata la vuoi la patata il primo che fa un passo e le chiudo fermo fermo se vuoi la pata se vuoi la patata beh bisogna che uno si avvicini la vuoi questa patata o no? oh.. allontanati la vuoi questa patata o no? ti vengo a portare la patata no 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 dai no raga quitto eh ti vengo a portare la patata giuseppe la patata dai beh scusa la patata la patata arrustuta annaccia è per quello ti dico che bisogna dormire pepe e pasqua e torno anche se piove ah no vabbè se devi morire conviene che torni aia aiuta ma vediamo che troppano ah ti troppa la membrana la membrana era per fare l'elitra per sistemarla si per metterla a posta si ce n'ho uno anche io qua eh ah è figo comunque come mob quello che mi piace ecco eh scendete giù vai ci mettono mezz'ora per scendere perché ci mettono tanto ok allora si potrebbe cominciare a fare un po' di carta si no devo aspettare ancora un attimo per fare la carta ah sai come posso raccogliere il miele tu lo sai ah ci vuole la forbice no con la forbice ti da il il favo il favo come si chiama ti da il favo con la forbice se vuoi il miele lo devi raccogliere con la bottiglia ma si incazzano le api devi avere il falò devi affumicarle e dopo lo puoi raccogliere se no si incazzano ma sti cosi non scenderò più giù cioè li hai cagati in mano ma eh ma perchè sto vicino alla torcia non scendo si si è per quello eh ah è per quello eh infatti non scende uno infatti è sceso uno infatti è sceso uno no mi ha rotto mi ha rotto l'elmo porca puttana no mi si bagna la testa è che ci sono talmente tante cose che si possono fare che non ti viene in mente da dove cominciare cioè che succede? ah ha smesso di piove ah che bello è scambata? è scambata comba allora lo metto a posto un po' di roba eh mhm allora l'infinito l'arco lo metto sopra tutto ah quello mi sa che me lo prendo io sai perchè ce l'ho con riparazione e cazzo indistruttibilità no no lo prendo io scusami ma c'ho già c'ho già della bella c'ho già un bell'arco e devo migliorarlo così c'ho riparazione indistruttibilità infinito fantastico no perchè? cosa è successo? non mi mette riparazione perchè è stronzo oh ah l'hanno nerfato l'hanno nerfato non ci voglio credere l'hanno dato di mezzo? no c'è non le puoi più combinare oh ma andrò per cazzo questi mo di fucilo eh dobbiamo dormire mmm dormiamo fidati che muoiono da soli beh così se droppano pure la roba ma a droppare non so se droppano vedi guarda quanti cazzo cazzo morite scemi no no nessuno oh questo l'ho ucciso io e per quello ha droppato che mira ragazzi mamma mia attenzione ha una mira incredibile nel nostro manofi gli slime sono così carini e ti attaccano chi è carino? il slime no i cubi di magma sono stronzi cosa ci fa lì un creeper? mannaccia mettiamo questo qua mettiamo la botola oh cazzo mi stavo per far ammazzare da da johnny ah johnny mannaccia dove ci va la redstone dove si fette questo dove poi si mette un ripetitore dove poi alla fine abbiamo fatto il clicker giusto? vediamo cosa lanciamo un po' di ciottoli ah li ha sparati qua però perchè non me li spara perchè non me li spara fuori? com'è su fat? ah ecco perchè non vai agg caput agg caput perchè non vai agg caput qua ci vuole un blocco fullo dammi un blocco fullo dammi un blocco fullo guarda johnny ti faccio piovere in testa un po' di ciottoli va bene? ok è un po' l'attrice automatica e ha un passo dal completamento molto bene molto buona molto buona blocco di mattone mattone del nether allora è qua allora questo punto appunto questo farei così così e così anche se non è proprio super sexy ok ci possiamo riprendere la crafting ok abbiamo fatto la modifica anche al tetto anche se non è venuto proprio bello però ah dove è i maroschi? dopo un lungo viaggio sono tornato sto facendo esperimenti scientifici ah cazzo ci vuole un dispenser ahhh ahhh salve ahhh bentornato aia guarda mi ha fatto fare un macello guardi le faccio vedere le faccio vedere guarda che cosa le ho portato guardi bene ah i funghetti i funghetti abbiamo trovato finalmente la foresta blu funghetti grande guarda cosa ho trovato anche guarda cosa ho trovato ho trovato sette di queste guardami 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 le spalle sempre si si a dina arrustuta del re johnny del re johnny re re johnny re johnny oh trentina resa tutto fatto ci sta a dina arrustuta di non arrustuta a johnny nemmeno a fare una festa a rippone i poveri gorgia tutto e me no 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 non picchiarla johnny no 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 scusi johnny non ci amaro scusi johnny eh lo so lo so oh mi scusi mi scusi non lo faccio più non lo picchiare johnny cazzo che johnny è nostro no 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 ha fatto no, no, non fa niente, ma non fa niente ah, che, stavo scherzando non lo stavo scherzando benvenuti a Dinarustutore Johnny fa sempre dei buoni piatti cosa vuole lei, mister Zelli? è chiuso è chiuso, non è ancora pronto prossima apertura testiamo? in realtà è molto semplice, basta aprire vado? vai, vai, apri apri, apri alcune non sono cadute vabbè, vabbè, ci sta spostati, spostati, allontanati andiamo via dai, cioè, che farm è questa? troppo troppo, troppo via, via, via grazie Johnny grazie Johnny sembra molto gentile Johnny ecco, questo è un leggero è un leggero floor del design vabbè c'ho l'idea perché è semplicemente un problema di orientamento no Johnny, Johnny guardami ok, boh boh boh, posto così non dovrebbe più succedere vai vai, aspetta, allontanati adesso ammazzo 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 pole Johnny l'ammazza pole che spettacolo grande Johnny Johnny nostro pollatore pollatore automatico come ho? grazie Johnny lei è sempre molto gentile Johnny grazie Johnny sempre molto caro ecco qua grazie 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 grazie